L'ultimo incidente ieri ad Atri in un cantiere. Un operaio è precipitato da una scala, è vivo ma avversa in gravi condizioni in ospedale. Sempre nel Terramano a settembre due vittime in appena 15 giorni. È un fenomeno drammatico quello degli infortuni sul lavoro che vede l'Italia detentrice di un triste primato europeo che la pone agli ultimi posti. In Abruzzo le cose non vanno meglio. Il confronto tra i mesi gennaio-agosto 2021 e lo stesso periodo del 2022 registra un brusco aumento degli infortuni denunciati, più 53 per cento e un più 13 per cento delle malattie professionali. In diminuzione invece gli infortuni mortali passati da 29 a 10 ma non può essere certo una consolazione. Domani in tutta Italia si celebra la giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro. Ne abbiamo parlato con Claudio Ciampagna presidente nazionale patronato Anmil. Dietro queste cifre ci sono delle persone con tutti i loro problemi quindi c'è il caduto sul lavoro ma tutto si ripercuote poi sui familiari e anche sulle spese del nostro paese, del governo nel senso che noi spendiamo circa 300 miliardi l'anno per spese sanitarie, legali, spese sociali di ogni genere per non parlare poi del danno morale che questa gente subisce. Torniamo a parlare di cultura di sicurezza ogni anno quando facciamo questa giornata. La cultura di sicurezza la si ottiene proprio facendo prevenzione prima di tutto. Informazione e formazione. Per quanto riguarda la formazione se mi consenti vorrei fare un elogio alla regione Abruzzo perché voglio dire agli abruzzesi siamo primi in Italia ad avere una legge che riconosce la scuola della testimonianza. Che cos'è? La scuola della testimonianza cioè la regione Abruzzo ci ha approvato con una legge che riconosce la scuola della testimonianza cioè formatori testimoni del proprio infortunio che educano altri nelle scuole, nelle aziende. Ci richiedono perché noi si possa parlare agli studenti, ai prossimi lavoratori, futuri lavoratori e nelle aziende dove in effetti l'attenzione è massima quando qualcuno di noi racconta il proprio infortunio. Noi abbiamo come Anmil anche un problema di carattere economico. Il vecchio governo, il vecchio ministero del lavoro ha con noi un debito di quasi 20 milioni che ci stanno costringendo adesso e partirà fra qualche giorno alla cassa integrazione. Questo consentimi di dirlo ed è un appello che faccio veramente al nuovo governo di occuparsi di ciò che ci spetta di diritto cioè servizi prodotti come parolato e che non sono stati ancora riscossi. I politici poi non hanno messo granché i partiti granché nei loro programmi per quanto riguarda la sicurezza. Quando la sicurezza, la cultura della sicurezza, siamo l'ultimo paese al mondo insomma ad averne. Dovremmo essere i primi visto che la civiltà la diamo noi al mondo. Voglio aiutarti a vedere i pericoli del lavoro.